Fino alle 13.30 oggi continuiamo a parlare del nostro territorio e soprattutto parliamo di cultura perché è un argomento che spesso viene accennato leggermente ma a Verona di cultura ce n'è parecchia e spesso i Veronesi stessi non sanno gli eventi dedicati al mondo della cultura perché sono veramente tantissimi ad esempio oggi abbiamo il piacere di avere con noi Assessore alla Cultura del Comune di Suona benvenuto a Gianmichele Bianco ciao Gianmichele ciao ciao grazie per aver accettato l'invito grazie a voi come stai? molto bene direi insomma sappiamo che l'anno scorso a Suona quanti? 50? 60? no l'anno scorso 70 eventi ecco cioè non un numerino così ecco com'è programmare pensare ideare 70 eventi dedicati al mondo della cultura? beh insomma chi lavora lo sa è faticoso ma una bella soddisfazione no? per cui e tra l'altro sono eventi molto diversi tra loro quindi si va dalla musica al teatro amatoriale al teatro professionistico al teatro per bambini a tutte queste cose messe insieme 70 eventi con circa 150 partecipanti l'uno 10.000 11.000 presenze direi che insomma possiamo essere soddisfatti tanta roba eh tanta roba soprattutto come dicevamo all'inizio non facile ma soddisfacente assolutamente anche perché abbiamo avuto degli anni insomma sappiamo tutti non proprio così semplici e quindi un ritorno con un numero così importante e soddisfacente non è scontato non è immediato ecco no teniamo presente che tra l'altro ogni evento è gratuito per noi per cui per cui siamo convinti che la cultura almeno quella che riusciamo a fare sia gratuita debba essere gratuita perché non è solo uno slogan ma più cultura meno guerra quindi ecco quindi investiamo in cultura e riusciamo a ridurre parole sacre perché a mio parere è così che deve funzionare parole sacre e quindi quest'anno 2023 ormai cominciato starà cominciato oggi è 17 di gennaio siamo in diretta e cosa succederà di bello insomma sappiamo che siete già avanti ci sono già allora sì lo scenario che abbiamo è fino a pasqua maggio diciamo più o meno abbiamo ancora una quindicina di eventi quindi veronesi tutti e tutte partecipate venite a vedere il nostro sito eventi che sono sia di natura professionistica teatrale sia amatoriale sia musicale professionistica sia di presentazione dei libri di una casa editrice veronese e su tematiche varie faccio degli esempi certo 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 allora esempi vanno dalla musica francese cantata da una professionista cantautrice che tramite un'autobiografia ha vissuto in francia canta questa musica francese è bellissima non solo è romanticissima è bellissima quindi guardate quando sarà e venite a zona e oppure il teatro professionistico che parla di temi abbastanza particolari sentire parlare delle problematiche dal punto di vista teatrale del lavoro sui giovani è una cosa un po' strana però se venite a vederlo ha vinto un sacco di premi questo questa opera che si chiama Arbeit del teatro Bresci ma è solo per dare un esempio e non parlo di quello che è già stato nel passato però insomma 10 15 occasioni ancora gratuite in Comune di Sona venite in Comune di Sona bravi davvero perché non è facile trasmettere cultura con classe e qualità e soprattutto in formato gratuito quindi insomma tanta roba ecco di fatti stiamo anche sbirciando un po' sul sito comune.sona.verona.it se dico bene no è comune.sona.verona.it e stiamo insomma questa qua è l'home page poi cercate cliccate per scoprire ovviamente tutti tutti gli eventi sono supernotazione come funziona no allora era supernotazione fino al periodo covid adesso non lo è diciamo che abbiamo una sala che può contenere più di 100 posti e quindi in questo momento invernale va bene così l'estate invece raggiungiamo anche le 200 persone circa di più ecco solitamente dove si tengono gli eventi mi hai nominato una sala allora abbiamo fatto una scelta di aprire la sala del consiglio noi italiani italiane siamo con la politica siamo sempre un po' particolari quindi abbiamo detto apriamo il nostro parlamento venite dentro e vedete com'è e lì dentro facciamo anche spettacolo non solo spettacolo politico che quello che lo risparmio ma spettacolo di natura proprio artistico lì dentro facciamo di tutto quindi se abbiamo l'occasione qualcuno di questi lo manderemo anche via streaming perché abbiamo questa possibilità abbiamo artisti del territorio un artista piuttosto che autrici teatrali del territorio quindi quello che posso dirvi è che noi apriamo le porte istituzionali alla gente la popolazione è bella questa idea cioè nel senso a casa vostra portiamo anche poi non è casa nostra è casa di tutti e quindi veramente le porte aperte non è solo uno slogan è venite dentro che trovate sempre accoglienza e quindi noi siamo lì beh ora vedo che sicuramente un sacco di eventi quindi poi insomma se ne parlerà possiamo trovare tutto dicevamo sul sito quindi in primis mesi di che mesi parliamo allora adesso abbiamo una programmazione fino a pasqua ok e fra circa una settimana una settimana fa circa un mese cominciamo a programmare tutta l'estate e fino all'autunno tenete presente che in generale d'estate abbiamo circa una ventina 25 eventi in giro per le frazioni però quindi a maggio verrà fuori il nuovo calendario beh tanta roba insomma sempre in continua evoluzione già michele io ti ringrazio per essere stato oggi con noi so che le cose a dire sono veramente tante complimenti per quello che fate smart music nuovo programma che è cominciato dedicato agli artisti emergenti ma anche affermati del nostro territorio c'è ovviamente insomma si parla anche di territorio oltre che musica e artisti quindi viene trovarci vieni per favore a raccontarci insomma queste cose prego e raccontaci che cosa succederà insomma beh non c'è da scordare che sono è il centro del mag vero sottolineiamo sta cosa che parliamo di musica 30 secondi cioè che cosa si intende diciamolo anche per me abbiamo il mag è questa rassegna di tre quattro giorni in cui vengono giovani cantatori cantanti italiani preferibilmente e si tiene nei comuni di zona in particolare una bellissima location del comune di zona che il parco di villa romani lì dentro ci sono migliaia di presenze sempre praticamente tutto esaurito si tiene nel periodo di agosto e quindi ormai è un evento che parla da sé questo è un evento musicale di tutto rispetto abbiamo anticipato addirittura dei talenti che poi sono emersi uno per tutti ci ha fatto anche molto discutere il massimo pericolo e ha fatto molto discutere anche però questo è talento la creatività io sono per una cultura aperta quindi noi ospitiamo le persone che poi abbiamo visto vengono fuori e poi chi vivrà vedrà esatto grazie mille Gianmichele grazie di cuore per essere stato con noi ci rivedremo poi a smart music e quando avete quando c'è qualcosa di bello sentiamoci perché se poi maggio si avvicina ci rivedremo per parlare anche delle state grazie per essere stato con noi grazie a te grazie a voi grazie mille grazie grazie per essere stati con noi continuo la mattinata di tutti amici o meglio noi ci salutiamo in questo preciso momento ma ci vediamo domani stesso posto stessa ora stesso canale dalle 11 alle 13 30 tutti amici e allora a domani grazie per essere stati con noi alla prossima ciao